eccoci arrivati a praga zaino in spalla valigioni perché vanina nostra si porta dietro sempre mezza casa tedisco che ce lo portiamo in italia adesso vi facciamo vedere un po praga che bellissima oh guardalo guardalo guarda come diventa obbediente con l'idea da mangiare cosa arriva cosa arriva cosa arriva cosa arriva che bravo allora no questo quando chi te l'ha insegnato questo cucciolotto ma che io io gli ho insegnato vedi guarda chi la sta dando la zampa ti dico guarda fallo tu no questo lo cancello lo cancello lo cancello ragazze nel famosissimo charles bridge giusto ok il ponte di carlo di charlie di charlie raga bellissimo e guardate aspetta oh le Grazie.